Per gli studenti e le studentesse dell'Università di Macerata interessati a vivere in prima persona l'esperienza e le emozioni della prossima edizione di MusiCultura è ora di farsi avanti. Sono due le opportunità a loro disposizione per accompagnare il Festival dalle sue fasi iniziali fino alle serate finali all'Arena Sferisterio. Divenire membri della giuria che seguirà l'iter del concorso, selezionando uno dei 16 finalisti al termine delle audizioni live ed assegnando il premio per il miglior testo durante le serate finali e poi entrare nella redazione giornalistica di Shusha, la testata multimediale che si cimenta sul terreno della comunicazione giornalistica e social connessa alla manifestazione. Per gli studenti la consolidata collaborazione tra l'Ateneo Maceratese ed il Festival offre la possibilità di verificare le proprie inclinazioni e di arricchire le proprie capacità in un ambiente trasparente e ricco di stimoli, qual è quello di MusiCultura, una realtà che da quasi 30 anni rappresenta uno dei più importanti punti di riferimento nazionali per la canzone di qualità, questo il commento del rettore dell'UniMC Francesco Adornato. In questi anni, sottolinea invece il direttore artistico del Festival, Piero Cesanelli, più di 260 studenti e studentesse ne hanno approfittato per intraprendere esperienze formative nei settori della comunicazione, dell'analisi linguistica e musicale applicata alla canzone. Fa piacere anche segnalare, conclude Cesanelli, come queste esperienze abbiano poi contribuito all'inserimento nel mondo del lavoro di molti di loro. Il lavoro degli studenti, coordinato da referenti di MusiCultura e dell'Ateneo, secondo le rispettive competenze, potrà dare accesso a crediti formativi, a discrezione dei singoli dipartimenti. Per partecipare alla selezione è necessario inviare il curriculum vite, il modulo di adesione, entro il prossimo 28 gennaio all'indirizzo orientamento.attivitacculturali.unimc.it. Una commissione poi selezionerà le domande pervenute. Per informazioni www.unimc.it.